Ciao a tutti e bene sì sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda questa è l'ottava settimana che va da lunedì 15 febbraio a domenica 21 febbraio ho utilizzato parecchio materiale preso da Tiger come i Piper T principali e i vari stickers mentre invece questo slim l'ho preso da Aliexpress e poi per scrivere i giorni della settimana ho utilizzato la penna gel rosa presa lì del tempo fa volevo fare una settimana un po' a tema unicorni, arcobalini, cose così e quindi ecco mi piaceva insomma non vedevo l'ora di utilizzare queste cosine qua questo è un video che già ho registrato però siccome mi è arrivato il nuovo supporto per registrare i video ho detto lo voglio provare e registro il video e allora per quanto riguarda gli appuntamenti video quello del lunedì cioè di oggi già l'ho scritto poi ci sarà forse un altro appuntamento video mercoledì 17 dove vi mostrerò il pensierino appunto ricevuto a San Valentino e poi ci sarà un altro video venerdì 19 dove vi mostrerò delle cosine che ho comprato in saldo per concludere ecco questo periodo di saldi uno me l'avevo già mostrato venerdì e adesso venerdì questo ci sarà il prossimo perché praticamente questo video l'avevo già registrato l'ho perso non so per quale motivo e poi stamattina mi è arrivato appunto un nuovo supporto quindi ho pensato bene che nella sfortuna di aver perso il video però potevo utilizzare il nuovo supporto per registrare e devo dire che mi piace bello comodo comunque ecco è tutto e niente penso di aver detto un po' tutto infatti per adesso ho scritto solamente i due appuntamenti sicuri quello di lunedì 15 e venerdì 19 quello di mercoledì non lo so devo un attimo vedere fatemi sapere se vi può interessare vedere che cosa ho ricevuto e niente penso di aver detto tutto spero che questa decorazione vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito come sempre a lasciarmi un bel pollicione in su ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina così che appunto vi arriva la notifica di quando pubblicherò il mio prossimo video un bacione grande grande ciao al prossimo video seguitemi anche su Instagram perché su Instagram vedrete una parte ecco di quello che ho ricevuto cioè potete vedere ecco una parte di quello che ho ricevuto a San Valentino un bacione grande ciao al prossimo video ciao